Megafono alla mano all'ingresso del pronto soccorso il sindaco Biancani e il segretario del partito democratico pesarese Giampiero Bellucci giudicano Mio per la scelta di lasciare inutilizzato una palazzina covid a pochi metri da un reparto emergenza in affanno così come sollevano dubbi sull'avanzare del progetto del nuovo ospedale di Muraglia. Sono due dei tanti temi che l'EPD pesarese ha sbandierato sabato mattina in compagnia dell'intera giunta delle forze di maggioranza consigliare. Dito puntato sulla politica regionale in tema di sanità. Oggi come amministrazione comunale, come sindaco, ho posto nelle ultime settimane dei problemi, dei problemi che ritengo importanti, che vanno dal non utilizzo di una nuova palazzina realizzata proprio per il pronto soccorso, a un atto aziendale che ancora ad oggi non è stato condiviso con le amministrazioni, al tema della salute mentale dove ancora ad oggi non si capisce dove saranno portate queste famiglie, queste persone fragili e che quindi meritavano un'attenzione migliore, che ancora ad oggi non si sa se o interverrà o non interverrà la regione sulla parte dell'ex manicomio di loro proprietà perché noi stiamo sistemando una parte con 15 milioni di euro e rischiamo di non avere l'abitabilità perché la regione non fa neanche quella manutenzione minima. Non sappiamo se il centro sull'autismo andrà avanti o non andrà avanti, dove verrà realizzato. Ho ricordato che sono passati quattro anni da quando sono al governo regionale, l'amministrazione comunale deve, io come sindaco, devo in qualche modo occuparmi della salute dei cittadini, ribadisco la volontà di un confronto positivo, di un confronto costruttivo, della voglia di condividere e di dare, come dire, un possibilmente anche un contributo, ma fino ad oggi non ho avuto risposta. Le uniche risposte che ho avuto appunto sono dal direttore generale che dal mio punto di vista non ha colpe perché è una persona che è arrivata da poco, perché le scelte che si stanno facendo non dipendono da lui ma dipendono dalle scelte precedenti. Ho anche ricordato che l'atto aziendale a tutt'oggi ancora non è stato approvato, mi auguro ovviamente che venga condiviso e ho rilanciato sul fatto che l'ex direttore generale, la dottoressa Nadia Storti, dal mio punto di vista ha lasciato il suo incarico perché l'atto aziendale che ci verrà sottoposto, sicuramente prevederà che non cambierà nulla, che rimarrà tutto come oggi, anche perché è già stato dichiarato che ogni posto da dirigente, sia sanitario sia amministrativo, verrà mantenuto, quindi non riesco a capire cosa vuol dire fare la riorganizzazione e quell'attività di razionalizzazione che andava fatta ad oggi non si vede. Il segretario Bellucci si concentra invece su un progetto dell'ospedale di Muraglia reputato in stallo per insufficienza di risorse. Chiediamo di condividere il progetto prima possibile, secondo di fare un cronoprogramma reale, sappiamo che si tratterà di un appalto integrato in cui le imprese dovranno presentare le loro soluzioni che saranno soggetti a commissione di valutazione, dopodiché ci sarà la realizzazione dell'esecutivo dalla parte dell'impresa giudicatrice. I tempi non a Pesaro, in genere, degli appalti integrati vanno da 10 a 12 mesi. Ora, non c'è il progetto, dovrà essere fatta la gara d'appalto. Io penso che siccome a settembre dell'anno prossimo si vota, si arriverà in maniera rabberciata forse a un pseudo affidamento, per cui chiarezza su quello. Da lì decade tutto il sistema dei servizi sanitari. Abbiamo ridimensionato un ospedale che doveva essere di servizio per tutte le acuzie della provincia a ospedale di Pesaro. Questo ha provocato che cosa? Demotivazione di tutto il personale qualificato e specializzato dei medici, dei principali servizi e dipartimenti della sanità provinciale, che si vedono in pratica a disposizione di un'azienda che ora deve mettere insieme i resti di azienda Marche Nord ospedaliera con i servizi del territorio.